Alle elezioni provinciali del 2004, 120.000 persone hanno scelto il centro-sinistra per guidare la provincia di Pisa. In questi cinque anni abbiamo investito in strade e scuole, nella tutela del territorio e della costa. Abbiamo messo al centro delle nostre scelte la solidarietà, il lavoro e l'economia. Tutte queste cose le abbiamo fatte davvero e nei prossimi cinque anni ne faremo ancora di più. Il 6 e il 7 giugno, come presidente della provincia di Pisa, vota Andrea Pieroni.